Ciao a tutti ragazzi e ragazzi bentornati in questa nuova live di Nino Gamer Oggi siamo qui per fare la review di Felipe Anderson ragazzi Oggi siamo qui per parlare dell'esterno più forte della serie A Perché si presenta con 4-4, normale normale di WorldCreat, ottimo per un esterno Quindi secondo me questo Felipe Anderson ha tutte le stats a posto Ovviamente il tiro è quello di aumentare un po' Però noi adesso andiamo a vedere le stats nel complesso Le stats nel complesso rispetto all'IF sono più 4 di velocità, più 6 di tiro, più 4 di passaggio Più 5 di dribbling, più 2 di difesa e più 3 di fisico Questo Felipe Anderson io lo uso col motore perché col motore diventa questa carta qua Adesso ragazzi prima che ci lasciamo e prima che vi do il voto di questa carta Vi voglio far vedere una cosa Guardate, vi voglio far vedere tutti quanti Vi voglio far vedere Guardate qua Il gol che sono riuscito a fare con Felipe Anderson ieri ragazzi Quindi potete solo immaginare che il resto è pura fantasia di Nino Gamer È pura fantasia Guardate qua che gol ho fatto Guardate qua con il mio commento da sotto Eccolo qua ragazzi C'ha un tiro a giro veramente pazzesco ragazzi Perché veramente ha un tiro a giro assurdo Quindi voto a questo Felipe Anderson Gli do un 8,5 Esterno fortissimo e anche linkabile ragazzi Io vi aspetto stasera in live perché abbiamo da fare Un gran pack opening con 100€ di FIFA Points L'Icon, Pack, Pick E poi abbiamo un milione e tre per fare la nostra squadra Per la prossima Weekend League Testando qualche nuovo headliners ovviamente Noi vi aspettiamo in un prossimo review Like e commento Bella a tutti amori miei